Ciao a tutti ragazzi, allora bentornati in questo video focus, ve lo consiglio, voglio dare questo titolo a questa serie che porterò ogni tanto, non la porterò spessissimo. Allora, tempo fa vi avevo già parlato di un documentario su Stanley Kubrick, più che altro su una persona molto vicina a Stanley Kubrick, vi metto il link in descrizione. Oggi volevo parlarvi di 13 Reasons Why, una serie tv che trovate su Netflix. Ultimamente ne stanno parlando tutti di questa serie, quindi non sarò sicuramente il primo e non sarò sicuramente l'ultimo a parlarne. Mi frega poco di questo, ma comunque per voi è buono, perché avete moltissime voci per poter confrontare quello che adesso vi dirò. Allora, cercherò assolutamente... No, cercherò, non farò assolutamente alcun tipo di spoiler in questo video, perché io odio gli spoiler come sicuramente anche voi. 13 Reasons Why, serie tv che trovate su Netflix tutta quanta intera, uscita a fine marzo, io l'ho vista da poco sul consiglio di due miei amici, l'ho divorata in due o tre giorni, veramente, veramente fantastica, ve la consiglio. Quali sono i temi portanti di questa serie tv? Allora, in questa serie tv si parla di bullismo, di cyberbullismo e anche di qualcos'altro che va oltre il bullismo fino a diventare un vero e proprio crimine, anche se non è che il cyberbullismo non sia un crimine, però vedrete, non voglio dirvi niente perché non voglio spoilerarvi la storia. In che cosa consiste? Qual è la trama di questa storia senza farvi spoiler? All'inizio già della prima puntata scopriamo che Anna Baker, la protagonista di questa serie tv, si è suicidata, apparentemente senza motivo, ma Anna Baker prima di morire ha fatto qualcosa di molto particolare, ha preso delle audiocassette, ha registrato tredici lati, ha preso sette cassette, quindi non so se vi ricordate i più piccoli, no, le cassette avevano un lato A e il lato B, ha registrato tredici lati e le ha date a delle persone. Quindi ogni lato di queste cassette che lei ha registrato è dedicato ad una persona che lei ritiene responsabile in parte del suo suicidio. Quindi lei ha dato queste cassette alla prima persona e poi ogni persona dovrà passarle alla seconda, poi la terza, poi la quarta, eccetera, eccetera. Quindi vediamo il protagonista di questa serie, Clay Jensen, un ragazzo che poi scopriremo essere anche innamorato di Anna, si scopre subito già dall'inizio, che quando scopre di far parte di queste cassette e quindi di essere anche lui responsabile della morte di Anna, per lui comincia un travaglio interiore veramente, veramente forte che lo porterà poi a scoprire tante altre cose nell'andare avanti nell'ascolto delle cassette. Quindi è una serie in un periodo storico come questo molto importante perché tratta, ripeto, il tema del bullismo, il tema del cyberbullismo che vengono troppo ancora, secondo me, sottovalutati. Quindi è una serie che io vi consiglio di vedere, vi consiglio di far vedere soprattutto. Anche per chi è un po' più grande, quindi ha passato già l'età della scuola, è una serie molto interessante perché riapre delle finestre sul passato, perché comunque tutti abbiamo bene o male preso in giro e tutti bene o male siamo stati presi in giro, chi più chi meno. Quindi riapre delle finestre sul passato e ti fa vedere le cose in una maniera in cui, inaspettata. Quindi è una serie proiettata verso il futuro perché comunque dopo che hai visto questa serie, non diciamo che la, forse è esagerato dire che la tua vita cambia, non è che penso che la serie abbia queste pretese, comunque penso che dopo aver visto questa serie, viene sviluppata una sensibilità maggiore riguardo determinati argomenti. Questa serie aiuta a capire che anche una frase innocua buttata lì, che sembra innocua, detta così stupidamente magari per fare una battuta, a qualcuno può far male. Bando alle ciance, questo non vuole essere un video lungo, ho fatto questo vlog domenicale su questa serie perché veramente ritengo che sia meritevole dal punto di vista sociale, non solo come serie. Come serie è fatta molto bene, grandissime musiche, gli attori bravissimi, soprattutto è molto bella l'esperiente fotografico che hanno usato della fotografia, tutti i flashback in cui Anna è viva sono tutti pieni di colori, mentre invece quando si parla, si raccontano avvenimenti dopo la morte di Anna, si vede proprio i colori sono molto molto cubi. Non voglio starmi qui a ripetere, vi consiglio vivamente ancora l'ennesima volta di vederla e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!